Il parco in Normandia, ma non ho fatto il militare, ero impegnato. Senza dubbio c'è in lui un qualcosa di ancestrale, no? Una sorta di istinto primordiale, un qualcosa anche di animale. Eh, ma non basta. Bisogna lavorare. Ma lavorare a modo mio. Allora voi che dite? Accetta di fare quello che dico io o rinuncia? Va bene, va, scusate, ho un impegno dove andare a riflettere, va? Ecco, guardi, rifletta pure. D'altronde riflettere piace a tutti, mica solo a lei. Però mi raccomandi, non lo faccia pubblicamente, non lo faccia davanti agli altri. Hai capito, Gedi? Pare babbo mai sapete, tu, che? E' bravo, Gedi, va. Ma qualsiasi, la qualunque, lei le vuole vincere queste elezioni. Senza dubbiamente. Per prima cosa si ricordi sempre. Lei è la prima pubblicità di se stesso. L'immagine del candidato è come l'immagine del guerriero. Tutto a voce. Deve incontrare timore nell'avversario. Deve ispirare rispetto nelle truppe. Te capi? Senti, Nino, ma che fine ha fatto tuo figlio Francis? Eh, è partito. E' andato al nord. Sai, certo, il ragazzo ha talento e adesso lì ha avuto molto successo. Ah sì, veramente? Ora, è stilista. Ha fatto bene a partire, sai. Scolettava, il ragazzo non poteva rimanere al paese. Era, come dire, troppo stilista. Ah, attia te saccio. Caccia le mani, Nenuzzo. Eh, come una mamma in chiacobumolo. Ah!